La matricola Fortis spugna a vicio maggio e conquista i primi tre punti all'esordio in seconda categoria al termine di un incontro avvincente, quanto entusiasmante e risoltosi in pieno recupero. Pronti via e Cencini al quinto minuto segna in mischia su calcio d'angolo, Fortis in vantaggio. Al trentasetesimo il bomber Peccogari raddoppia battendo in uscita il portiere Barbagli dopo aver evitato la difesa avversaria. Passano sei minuti e arriva il gol del vicio maggio con Faralli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa l'ottavo minuto la grande occasione per il pareggio per il vicio maggio ma il portiere della Fortis, Occhini, para il calcio di rigore di Claudi. La squadra di casa va in assedio ma in pieno recupero la Fortis chiude il match. Al novantaquattresimo nell'ultimo dei tredici angoli battuti Rosadini lancia a mercantini che a porta vuota segna da metà campo la rete dell'1-3. Grande partita, grande squadra, grande gruppo, grandi tutti oggi. È stata veramente una prestazione divina direi. Siamo andati sul 2-0 contro un'ottima formazione che è il vicio maggio che secondo me è una grandissima squadra fatta da dei grandi giocatori ma la Fortis quest'oggi ha veramente dato come ha chiesto il mister nei spogliatoi il 120%. Quindi ha veramente dato tutto e tutti hanno dato tutto. Sono veramente contento e poi questo Claudi che è in una forma stratosferica è il nostro capitano e ci sta rappresentando sotto tutti i punti di vista. Un pareggio che avete cercato per tutto il secondo tempo purtroppo non è venuto. Sì, diciamo che è stato un problema di ingresso in campo che siamo entrati un po' troppo molli, un po' troppo si è abbassato la guardia già dall'inizio e ci hanno fatto male in queste palle lunghe dove Pecorari si sa che è abbastanza furbo, ormai esperto per giocare sul filo del fuorigioco. Abbiamo trovato la difesa un po' impreparata e ci hanno fatto questo 2-0 che dopo chiaramente dura comunque da recuperare, un 2-0 quasi a fine primo tempo. Siamo stati bravi un po' a rimetterla in carreggiata sul 2-1 prima dell'intervallo e dopo c'è stato l'episodio del caccio e rigore che chiaramente l'errore ci sta però noi ci ha tagliato le gambe, a loro gli ha dato entusiasmo, gli ha dato la forza di chiudersi bene e di proseguire la partita. Poi dopo è chiaro che con il campo peso, la pioggia insistente è stata una serie di cose che chiaramente chi gioca in difesa è sempre più avvantaggiato, però la reazione c'è stata, è stata una bella reazione, purtroppo ci hanno trovato impreparati nel primo tempo che ci hanno colpito due volte a freddo e ci hanno fatto male.